Ben ritrovati con questo approfondimento, cercheremo di capire con questa rubrica stavolta perché i movimenti in alcuni casi riescono addirittura a soppiantare i partiti, è successo già in passato con i girotondi, adesso sta accadendo con il fenomeno delle sardine. Ne parliamo con il professore universitario Tony Germano, docente di letteratura italiana all'Università di Cassino, il maggiore esperto possiamo dirlo, del pensiero di Francesco De Santis che ha portato anche a Torino, c'è stato una mossa, un appuntamento anche di un certo rilievo dal punto di vista culturale. Intanto professore le chiedo subito perché i partiti vengono addirittura superati da movimenti come accade stavolta con le sardine. Guardi, il problema delle sardine o delle varie organizzazioni, movimenti e così via che si sviluppano, nascono all'improvviso in questi ultimi anni è legato proprio alla crisi dei partiti, cioè è la conseguenza della crisi dei partiti, l'assenza di strutture, di associazioni politiche in grado di reggere ai grandi processi della trasformazione, ha determinato i movimenti di piazza, organizzazioni spontanee, però su questo mi hanno fatte poi delle riflessioni perché come sa la crisi dei partiti si è associata alla comparsa del populismo, di questo termine che sembra nuovo, ma in fondo per chi ha una conoscenza, almeno la nostra generazione, la mia generazione ricordava tutte le polemiche su popolare e populismo sollevato dalla pubblicazione dei guaderni al carcere di Gramsci, o scrittori e popolo, se il popolo è interpretato correttamente o viene manipolato, il populismo è stata sempre una malattia atavica in modo particolare della società italiana. In questi ultimi anni si è aggravata notevolmente per una serie di ragioni che non possono essere semplificate in un giudizio manicheo, il bene e il male, ma la complessità deriva dalla crisi dei partiti, dalla sostituzione del liderismo ai partiti, cioè i partiti personali hanno determinato in maniera diretta e immediata le nuove rappresentanze, cioè la scelta dei parlamentari, fatta dai segretari di partito, dai capi di partito, che ha sostanzialmente indebolito notevolmente il concetto di rappresentanza. La crisi della rappresentanza implica anche un'accelerazione di tutto ciò che noi definiamo, ripeto, in maniera molto generica, perché mi auguro che riusciremo ad approfondirlo, definiamo populismo. È venuto meno, se vogliamo, il rapporto tra i partiti e l'opinione pubblica, i cittadini e da questo punto di vista i protagonisti di questo fenomeno, delle cosiddette sardine, non vogliono bandiere di partito, anche se c'è chi dice c'è la regia del Partito Democratico dietro a questi movimenti, però ci sono, almeno a livello locale, sono annunciate adesioni che lasciano per la verità un po' perplessi, perché parliamo di personaggi che comunque hanno una militanza politica nei partiti. Sente, partiamo prima da un punto di analisi. Prima di tutto mi consenta di suggerire ai nostri ascoltatori un libro, che cos'è il populismo? Di Jan Berner Müller, che è un politologo di disco che insegna in America, il quale nel 2017 ha pubblicato un libro, tradotto in Italia dalle edizioni dell'Università Bocconi, che è di una chiarezza estrema e molto utile, è anche il saggio che accompagna questo libro della politologa italiana, che insegna comunque in America, Nadia Arpinati. viene spiegato che in fondo i protagonisti del populismo contemporaneo, diciamo Trump, la Farange della Brexit, la Le Pen in Francia e Grillo in Italia, cioè tutti quei movimenti che sostanzialmente, o quei leader, che si sostituiscono alla volontà popolare e pensano di incarnarla, soprattutto attraverso l'intolleranza del pluralismo. Per cui, diciamo, il populismo è una cosa estremamente complessa, le cui definizioni, ripeto, sono molteplici, ma leggendo soprattutto il libro di Muller si capisce che il populismo è il frutto della crisi della democrazia e la crisi della democrazia determina inevitabilmente la comparsa di leader o di movimenti che finiscono per pensare di incarnare la volontà del popolo, in maniera del tutto arbitraria e soprattutto attraverso un processo di intolleranza verso il pluralismo. Però hanno successo, perché a giudicare dalle piazze che abbiamo visto in varie città… Non stavamo parlando, diciamo, dell'Ellittico, ma stavamo parlando di quei movimenti che raccolgono consenso, anche se si discute del fatto che siano movimenti contro, stavolta sono nati contro Salvini. Distinguiamo le cose, diciamo, la lettura del populismo, diciamo, che mi in maniera anche sommaria che stavo facendo prima, riguarda appunto questi partiti, queste organizzazioni, Orban, Le Pen, anche Salvini ormai, che, diciamo, pigiando il pedale della paura dell'indefinito, dello straniero, di tutto ciò che è diverso e così via, per cui serve fare fronte comune e così via, questo populismo ovviamente raccoglie il consenso del ventremolle della società e questo è storicamente, diciamo, provato in ogni angolo, diciamo, dell'Europa. Poi ci sono questi movimenti che sono la risposta democratica, soprattutto se nascono con spontaneità, Bologna, tutto ciò poi che può determinare l'emulazione, ecco, su questo dobbiamo intenderci, cioè il proliferare delle sardine, inevitabilmente va controllato con attenzione, soprattutto all'interno di questo movimento così spontaneo, libero, democratico, per impedire delle interferenze e le interferenze sono le solite, cioè congelati che tendono a scongelarsi nell'entusiasmo giovanile, su questo diciamo anche oggi Ilgo Diamanti ha scritto un articolo molto interessante sulla Repubblica, ma ce ne erano stati anche nei giorni passati, cioè come conservare l'innocenza ad un movimento spontaneo e non innervarlo poi di quelle tendenze che pericolosamente possono determinare da un lato atteggiamenti populistici, sembra strano, come l'intolleranza, l'intolleranza verso Salvini può determinare altre forme di populismo, così come va verificato il rapporto con i partiti della sinistra, perché è inevitabile che in Emilia Romagna se tu ti opponi a Salvini il voto inevitabilmente va sul candidato che si contrappone alla signora Bergonzoni che è come la valletta di Salvini, per cui il problema di fondo sta nel, secondo me il grande interesse in questo momento dei partiti strutturati sarebbe quello di conservare l'autonomia di queste sardine, di non lasciarle proliferare però con una premeditazione che talvolta si coglie, per esempio in Campania, lei prima faceva, credo che si riferisse alla Campania quando parlava di locale, dove poi si insinuano oggetti che parebbero bene a stare più nella valle di Comacchio che a far parte di movimenti di rinnovamento e di trasformazione. Intanto un movimento che è nato dal basso, soprattutto dalla rete, il Movimento 5 Stelle come giudica la crisi che sta attraversando questo movimento che ora ha deciso di scendere in campo per le regionali in maniera piuttosto sofferta per la verità, mettendo in discussione anche la linea politica del capo politico Di Maio e andrà alla scelta dei candidati attraverso la solita piattaforma russo, le cosiddette regionali. Guardi, il problema del, lo ha detto anche Grillo d'altronde, dice non siamo più quelli di dieci anni fa, dieci anni fa erano partiti con il grande sogno che era più di Cassaleggio che di Grillo della democrazia diretta, la democrazia diretta inevitabilmente determina poi forme di populismo perché annulla quell'elemento di contrapposizione e soprattutto di dialettica all'interno delle dinamiche sociali pensando che quello che tu dici è esclusivo rispetto ad una società corrotta, malata, difatti i 5 Stelle avevano un atteggiamento quasi da testimoni di Geo, di un'intransigenza, di una incomunicabilità al di fuori delle cose che volevano comunicare loro. Il sistema li ha assorbiti, il sistema se ne è impossessato, la tela di ragno, basterebbe leggere qualche romanzo di Sciascia, li ha così fagocitati che alla fine davvero sembrano in questi ultimi giorni, non so, penso queste figure fraccaro, spada fora, quelle cosiddette istituzionali, sembrano delle imitazioni della nomenclatura democristiana di 30-40 anni fa, senza avere però la preparazione e la conoscenza del paese che avevano quegli uomini. E poi lei dice la piattaforma Rousseau, ma lei sa che la piattaforma Rousseau ha avuto il maggior numero di votanti quando si è trattato di rifare il governo con il PD di 80 mila voti, mentre quella delle candidature regionali 27 mila voti. Rispetto al corpo elettorale del nostro paese sono lo 0,3%. Quando noi parliamo di democrazia diretta bisogna essere molto cauti su questo, anche perché il tema poi di fondo di questo paese è la fine delle elite, cioè oggi le elite, quali sono? Quelle televisive, quelle che propone la 7, dalle 7 del mattino alle 24, anche poi vanno in replica queste trasmissioni, per cui c'è un 24 ore di proposizione di una elite che poi non è operativa nel paese, perché tutti quei volti che noi vediamo, che sono sempre gli stessi poi alla fine, non svolgono nessuna opera di incidenza nella trasformazione del paese. Anche questo va detto, oltre a promuovere i loro libri o a dire cose veramente insensate, perché se lei ascolta veramente vorrà invitare il pubblico, uno come Augas, un giornalista, non è questo grande intellettuale, è un giornalista che ha saputo utilizzare il mezzo televisivo, null'altro, poi diciamo ha fatto libri, ma il dire di destra è facile essere di destra e di sinistra è difficile perché dobbiamo rinunciare, ma la storia della destra italiana, da Gaurri in poi, è una storia ricchissima, complessa, coltissima anche, lasciamo stare il degrado, la volgarità di questi ultimi 15-20 anni, ma semplificare così destra e sinistra finisce per essere quello un pericoloso populismo, al punto che uno come Di Maio, la cui preparazione è pari a zero dal punto di vista concettuale, però è uno che è funzionale al sistema, in questo momento, dice noi non siamo né di destra né di sinistra, cosa sei, un populista, ecco, è su questo che credo vada svolto un esame profondo, anziché lavorare come sempre sulla emotività, cioè alle canzoni, agli inni, io preferirei un po' qualche libro in più. Proviamo a tracciare un'analisi anche di quello che sta accadendo in Campania, dove si andrà il voto nella prossima primavera per le regionali e siamo di fronte, come ripeto spesso, ad un film già visto, perché il centrodestra, visto e rivisto, perché sarebbe una sorta di terza edizione, quella di De Luca Caldoro, un duello che continua, una sorta di bella è stata definita a questo punto, insomma davvero i partiti non riescono ad andare oltre i soliti nomi? Ma io vi auguro che non ci sia questa cosiddetta bella tra due formazioni che potrebbero, non so, giocare tra i dilettanti o gli esordienti nel senso del rinnovamento, del cambiamento, cioè è veramente sconcertante come, ormai sono passati vent'anni dall'inizio del ventunesimo secolo, non ci si riesca ad affrancare nel mezzogiorno da modelli veramente ritrivi, parliamo della crisi della rappresentanza, ma quali sono le prospettive della rappresentanza se per 15 anni i candidati sono sempre gli stessi, con la stessa nomenclatura, con gli stessi volti, con gli stessi sostenitori, pensando che il potere regionale serve esclusivamente in un primo momento alla conquista del consenso e poi alla conservazione, nelle forme anche più bolgari, di quel consenso. Se lei pensa che oggi noi abbiamo nei partiti politici, anche di sinistra, soprattutto di centrosinistra, visto che la campagna è dominata dal centrosinistra, ma sarebbe la stessa cosa se ci fosse il centrodestra, impiegati, funzionari, che poi diventano o viceversa, o erano nei partiti o dall'impiego passano ai partiti per cui sono stipendiati di una istituzione per fare politica, ma io penso che queste forme forse erano nell'Uganda di Amin Dada, questa identificazione del partito col mio lavoro ed è sconcertante che nessuno lo sollevi, così come bisogna protestare contro tutti i linguaggi exonofobi, razzisti, che poi presuppongono soltanto un oceano di ignoranza e basta, bisogna essere intolleranti verso queste forme dure di appropriazione della cosa pubblica. Senta professore, intanto un nostro autorevole conterraneo, come De Mita dice manca il pensiero politico in questa regione, lei condivide? Certamente, però certamente il pensiero, sottolineo questo certamente, non può essere rappresentato dall'ultra novantenne onorevole De Mita, non vorrei apparire, Maramaldo sa che è stato anche da Avellino e Fabrizio Maramaldo, uccise vari cittadini, però il problema è questo, guardi che il ricambio delle classi dirigenti avviene su un patrimonio concettuale, progettuale, non avviene sulla base del consenso elettorale, perché oggi c'è un grande dibattito, vorrei ascoltare, non i 25 spettatori, sostituisco i 25 elettori di Manzoni che ci saranno seguendo, a leggere tutto il dibattito contemporaneo sulla crisi della democrazia, addirittura ci sono tutta una serie di politologi, Grillo voleva togliere il voto dagli anziani, questi vorrebbero addirittura annullare il voto, perché il voto sarebbe l'elemento, la scaturiggine c'è tutta una negatività della crisi delle istituzioni in questo momento, all'ilà di forzature il vero grande problema in questo momento è la mancanza di una elaborazione culturale che possa poi diventare nella prassi patrimonio politico, questo è il grande spaventoso problema e nel mezzogiorno questo problema è fortemente più esposto perché non abbiamo elitto, perché poi lei parlava del populismo all'inizio, ma tutto il dibattito contemporaneo è sulla morte delle elitte, quali sono le elitte? Il populismo si scaglia contro le elitte, le elitte oggi vengono individuate nel sistema finanziario e bancario europeo, questi grandi istituti che giocano poi sostanzialmente sulla pelle dei popoli, sui destini delle nuove generazioni, tanto è vero che come ha visto lo spread ormai è un'arma politica, su questo non si discute, come ci sono formazioni politiche che possono insidiare o soltanto minacciare di insidiare determinate posizioni, lo spread subito sale, altrimenti se fa comodo lo spread cala e non se ne parla per mesi, per settimane e così via. Il problema quindi è alla base la costruzione di un modello politico irrorato però da un patrimonio forte di natura culturale, questo è il grande tema. La questione sud, Svimez ci ha ricordato che la forbice si allarga, il sud è sempre più lontano dal nord, la classe dirigente meridionale quale sfida secondo lei ha davanti, come si può recuperare questo ritardo che questo territorio continua ad accumulare rispetto all'altra parte del paese? Guarda, questo ritardo si annulla attraverso la conoscenza, la ricerca, la moralità e il problema è che le classi dirigenti del Mezzogiorno si autoriproducono ma sempre in una dimensione biografica o autobiografica addirittura, un caso emblematico è quello di De Mito che si rigenera per l'assenza di qualsiasi altra forma di alternativa. Oggi serve che le classi dirigenti si formino al di fuori della politica, perché la politica contemporanea davvero è bloccata, mi dica un giovane, non più noi che siamo ormai con le pance, ma un giovane che voglia fare politica con entusiasmo, dove va? C'è il potere regionale che blocca e orienta tutte le iniziative, la sanità, le attività culturali, poi oggi tutto viene chiamato cultura, sagre, volgarità, cafonaggine, tutta cultura finanziata con migliaia e migliaia di euro, lei non può immaginare quanti soldi, d'altronde basta leggere il Burk, tutte queste cose, siamo amene per vedere i finanziamenti. Anche De Luca ci è cascato, secondo lei, perché aveva detto mai più la sagra del Caciocavallo. Ha costruito la sua rete di potere, come avevano fatti i precedenti amministratori della regione Campania, perché non dimentichiamo che il problema non sono gli uomini, alla fine De Luca è anche simpatico se lo interpreta la Crozza, il problema è il modello che va sostituito e se gli interpreti sono sempre gli stessi, al punto che il centrodestra addirittura tira fuori dal magico cilindro di Sik Sik di Edoardo il Colombo Caldoro, vuol dire che attualmente c'è una, noi diciamo il populismo, qui c'è una frattura tra il paese reale, cioè le persone che la mattina come noi vanno a lavorare, le persone che vivono del proprio impegno, della propria passione e un establishment che poi vive di privilegi, che sono privilegi inconmensurabili rispetto alla società e questo ha determinato ovviamente l'aumento di un dissenso non più orientato su una ideologia, su un modello politico e così via, ma sull'attrazione di chi è più masnadiero, più masaniello e così via, questa poi è la crisi. Parlando di cultura, due aspetti per chiudere questa nostra intervista, intanto una sua valutazione sulle polemiche rispetto alla scultura che rappresenta Salvini mentre spara a due immigrati, insomma questa è cultura, la polemica politica che finisce nell'arte. Guardi il problema è che oggi i linguaggi non sono più quelli che noi attingevamo o attingono ancora chi pratica questa buona forma di conoscenza dai libri. Oggi i linguaggi vengono captati, emulati dalla rete e la rete realmente sostituisce la cloaca massima, cioè è un luogo, è un insieme di luoghi in cui converge tutto il male possibile di quella incontinenza che la società non riesce a incanalare su strade di moralità, di impegno, di partecipazione, ma è una cosa volgare che non ha alcun senso se non quello di, come dire, irrobustire, alimentare a seconda dei punti di vista e delle fasce di opinione dove esso va a finire il mito di questo personaggio poi irrilevante dal punto di vista culturale. Luci d'artista a Salerno e cultura anche questo? E soprattutto qual è la sua idea su questo derby che il sindaco di Avellino ha provato ad accendere con il sindaco di Salerno? Ma questo è un derby che potrebbe interessare l'Enel, se c'è ancora l'Enel non lo so, c'è un conflitto tra elettricisti, tra gente esperta di fili, il problema è che un tempo la luce era qualcosa che veniva se uno aveva fede da Dio e se era laico dalla conoscenza, dalla filosofia. Oggi la luce noi la andiamo a comprare e addirittura la magnificiamo come un modello di rappresentazione culturale. Credo che questa sia la misura metaforica del buio nel quale noi viviamo, malgrado queste forme sgargianti e cafonische che ci propongono. Per chiudere un telegramma proprio velocissimo, poi avremo sicuramente altre occasioni per discutere delle sue ultime opere sul pensiero di De Santis. Quelle lasciamo le stare. Quello è un discorso sicuramente molto più difficile. De Santis che cosa direbbe oggi? Perché insomma, diciamo la verità, i problemi del sud e di questo territorio sono sempre gli stessi. emigrazione, fuga dei giovani, disoccupazione, povertà. Cosa direbbe oggi De Santis? Quello che direbbe, studiandolo da 40 anni, potrei avere anche delle divagazioni di folli e pensare di attribuirglielo. Dico quello che ha detto, che forse è più utile. In una delle sue cinque conferenze su Machiavelli nel 1869 dice che cosa è l'uomo moderno? È l'uomo che scende dal piedistallo, smette di fare l'eroe e inizia a camminare a fianco agli altri uomini per la strada, anche a passeggiare, pensando che si è diversi non per quello che gli altri pensano di noi, ma per l'ingegno è la scienza che è in noi e che serve agli altri. Cioè liberarsi da questo spirito di competizione e soprattutto liberarsi dall'idea che la conoscenza è improvvisazione. Perché la cosa terribile di questo momento, guardi, soprattutto di che gli fa politica, è quella di pensare che la comunicazione sia più importante del sapere. Bene, con queste parole sagge del professore Tony Germano chiudiamo questa nostra intervista. Grazie professore, grazie in regia per noi, Michele Urciolo, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.